quella del trampolino, intanto Martina Maggio vai Marti oggi la vedremo solo su questo attrezzo piantata Kaciov, uh lunghino Pac, Cap ho detto va bene Stalder con un giro piantata Schapo brava Kaciov vai 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 Marti dai, bene la verticale e Tarzan, bravissima dai con questa piantata, dai brava piantata Kaciov keep verticale vai 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 cambio petto cubitale gran volta cubitale, mezzo giro e si prepara per l'uscita mi raccomando, piega è meglio, va bene allora io